Luciano Manfrinato, candidato al Consiglio regionale della Calabria nella lista Calabria in rete, dal 1999 al 2009 assessore provinciale all'agricoltura e alle attività produttive, vicepresidente del Consiglio provinciale nell'ultima legislatura. Con che bagaglio e con quali obiettivi ha deciso di candidarsi oggi al Consiglio regionale? Il bagaglio è quello dei 15 anni di esperienza di questa provincia di Cosenza che ha i primi posti in Italia. Gli obiettivi sono quelli di portare avanti le istanze di questo territorio che sono agricoltura, turismo, infrastruttura e quindi far decollare questo territorio. La Siberitide è un territorio ricco di potenzialità ma con diversi settori oggi in crisi. Soprattutto nel campo dell'agricoltura. Qual è la sua ricetta per il rilancio? Stare insieme, metterci insieme per fare un unico marchio, un DOP della Siberitide, per fare massa critica e poter conquistare i mercati perché abbiamo una produzione eccellente, è oro, ma se non sappiamo vendere diventa piombo. Quindi bisogna associarsi, fare massa critica e incominciare a fare un ragionamento che in altre parti d'Italia fanno come la Melinda. E questo è l'obiettivo che mi pongo, il primo obiettivo che mi pongo se andrò a governare questa regione. Passiamo al capitolo infrastrutture. Porto di Corigliano, viabilità, aeroporto della Siberitide. Cosa serve per il decollo di questo territorio? Intanzitutto serve realizzare alcune infrastrutture, quale l'aeroporto e strade. Noi siamo isolate dal mondo, siamo l'area più importante economicamente della Calabria eppure siamo isolati. Quindi costruire aeroporto e strade. Per quanto riguarda le infrastrutture che abbiamo, come il porto, ahimè l'abbiamo, però chi ci ha rappresentato, chi ci ha governato fino ad adesso non l'ha valorizzato. Io vorrei partire da questo, per rilanciare il porto di Corigliano e creare e chiedere il riconoscimento della zona Frii. Questo farebbe sì che si creerebbero tantissimi posti di lavoro, ma non mi sto inventando niente. Tutto ciò è stato fatto nel porto di Taranto, è stato riconosciuto come porto frango senza tazzi, doganale, è stata prevista un'occupazione di 80.000 posti di lavoro. Io mi accontenterei di 15-20.000 posti di lavoro. La sanità ha altra nota dolente sulla fascia ionica cosentina. Non solo sulla fascia ionica, in tutta la Calabria, ahimè, mancano i centri d'eccellenza. Accelerare subito l'iter per la costruzione di questo polo di eccellenza nella Sibaritide, quindi l'ospedale unico della Sibaritide, per farne un centro di eccellenza. E poi esternalizzare quelli che sono i servizi della sanità. Cercare di curare i pazienti anche fuori dall'ospedale, perché c'è un costo non indifferente curandoli, ospedalizzandoli. Se si curano a casa, e si può, perché c'è un 30-40% di ospedalizzati che possono essere curati a casa e creare occupazione per i giovani, per gli operatori che possono svolgere queste attività. Io credo che risparmi alla sanità, si svuotano gli ospedali e i medici possono accudire meglio gli ospedalizzati. Tutto ciò, nemmeno questo, sto scoprendo l'acqua calda, quello che viene fatto in Emilia Romagna. Dobbiamo avere soltanto l'umiltà di copiare chi sa fare meglio di noi. Parliamo ora di rifiuti. Quali sono le prime attività che dovrà fare il nuovo governo regionale? Ma questo è il problema dei problemi. È differenziata spinta. Senza la differenziata spinta non andiamo da nessuna parte, anche perché ce l'impone il governo europeo. Ormai se non andiamo verso questa direzione ci saranno sanzioni. E quindi incominciare insieme a tutte le istituzioni locali, a partire dai comuni, in sinergia istituzionale, vedere come da subito affrontare e aggredire questo problema insieme a loro per vedere di incominciare a fare la raccolta differenziata. Questa criticità la possiamo trasformare anche in momento di occupazione e di risorsa, perché si possono fare centrale biogas, si può riutilizzare plastica, si può riutilizzare carte, si può creare economia e non facendo pagare più i cittadini quello che stanno pagando, che non è poco. Grazie a tutti.